Ciao a tutti, progetto zootecnia del percorso IPA è anche questo, allevamento di capri da latte, allevamento la pintalina, che mira a formare i nostri ragazzi da un punto di vista sia tecnico che pratico, quindi gestire in toto un allevamento tipico del nostro territorio, come ad esempio quello della capra da latte. Un saluto dalla professoressa di zootecnia Baruffini e da queste meravigliose caprette. Ciao! Ciao!